Sì, cambiamo man mano che andiamo avanti. Soprattutto è importante cercare di stabilire un contatto con voi che siete qui, malgrado la distanza che ci separa. Questo tipo di discorsi naturalmente andrebbero fatti in quello che noi chiamiamo un cerchio narrativo, quindi in una disposizione che è difficile perfino di immaginare in Italia. Io all'università ho chiesto di fare delle aule diverse da quello della cattedra e i banchi. La stessa questione ancora di più nelle scuole, perché qui nasce il cacciatore e il leone, cioè fin dall'inizio. E quindi è importante capire che anche la configurazione dello spazio, del luogo e la vicinanza tra chi parla e chi ascolta deve essere ridotta, molto più di quanto riusciamo a fare quotidianamente. Allora, io naturalmente sono il più inerme dei tre relatori di oggi, non soltanto perché sono il più anziano, ma anche perché io professionalmente mi sono interessato a questo spazio di azione più che di ricerca, dopo che ero oramai, negli ultimi anni della mia vita universitaria, ho cominciato a pensare che la storia dell'Africa era anche una storia di grandi movimenti di popolazioni al suo interno. Uno dei grandi temi della storia dell'Africa sono le cosiddette migrazioni banto, che popolano tutto il continente, lo trasformano da un continente di cacciatori e raccoglitori in un continente invece di coltivatori. E quindi il movimento è parte del continente che io ho studiato da sempre. Prima di venire qui, in realtà è stato un piccolo elzeviro sulla pagina del Sole 24 Ore, sul domenicale del Sole 24 Ore di domenica scorsa. Veniva citato Roland Barthes, che dice, ha scritto a un certo punto, vi è un'età in cui si insegna ciò che si sa, ma poi viene un'altra in cui si insegna ciò che non si sa. Questo si chiama cercare. A me è molto piaciuta questa citazione, perché è esattamente quello che io ho cominciato a fare da una decina, so, quindicina d'anni nel campo delle migrazioni, di cui io ignoravo tutto o quasi le migrazioni in Italia. e questa idea che siamo tutti in un campo nuovo, siamo tutti in un terreno di frontiera, letteralmente di frontiera, in cui, come dire, tutto quello che abbiamo letto, tutto quello che abbiamo ascoltato, che stiamo ascoltando, eccetera, va rimesso in discussione. E su cui io penso occorre un po' ripartire da capo. e il ripartire da capo è come stare vicino e accanto a questo che Bourdieu chiama le esistenze avvelenate di tante persone intorno a noi, non solo e non necessariamente soltanto migranti, ma quindi poveri, gli emarginati, le persone che hanno un carico di dolore addosso, e come noi possiamo in qualche modo rompere questo diaframma di distanza che ci coglie ogni volta che vediamo qualcuno che semplicemente chiede l'elemosina accanto a noi, e che abbiamo sempre l'imbarazzo di vedere in posizioni di testa abbassata, non so come dire meglio, di supplica quasi, una situazione che, non so voi, ma a me mi mette sempre in uno stato di agitazione. Allora, come vivere accanto al dolore del mondo e trasformarlo in positività e possibilità di azione? Perché il mondo di oggi è un mondo non solo di ingiustizie, di disuguaglianze e di iniquità di ogni genere, ma in cui noi siamo, non direttamente, ma insomma siamo corresponsabili, corresponsabili nella misura in cui non ci interessiamo o siamo indifferenti o non ci accorgiamo di quello che succede intorno a noi. Quindi la domanda sul che fare è una domanda che non solo vi proponete qui voi a non Antla, ma è una domanda che ci coinvolge un po' tutti. La risposta della comunità di accoglienza è una delle tante risposte che si può dare, come trasformare quello che noi facciamo quotidianamente in una comunità di accoglienza. La comunità di accoglienza non è necessariamente il centro di accoglienza. Stamattina, tra le molte cose sagge che ha detto Sandro Portelli, era che l'intervista è una questione di atteggiamenti più che di altro. avere l'atteggiamento giusto nel porsi di fronte a questo mondo accanto a noi che è un mondo di richiesta di intervento e di incapacità da parte nostra di intervenire, avendo una struttura che è quella che sappiamo. Cioè è una società che improvvisamente o negli ultimi anni è andata sempre più accanendosi sulla questione immigrazione pensando che è la rovina dell'Italia e non considerando tutti i vantaggi positivi dell'avere invece un concetto di accoglienza che sia più creativo, più innovativo, più intelligente, semplicemente più moderno che sarebbe quello che noi stiamo incorporando nuovo sangue, nuova linfa e non vedere questo nuovo sangue, questa nuova linfa come unicamente un problema. Problema per noi insegnanti, problema per noi operatori, problema per noi partecipanti di associazioni, problema di noi che votiamo persone che esprimono orientamenti politici. Tutti più o meno, dal mio punto di vista, diciamo dall'altra parte del mondo, come io così lo vedo e lo considero, compresa la sinistra in Italia. Allora, la situazione per qualcuno che ascolta storie dai confini del mondo che arrivano fino a noi è una situazione che ci costringe a trovare una via di uscita. Ci costringe a trovare una via di uscita a un problema che chiaramente i governi e chiaramente gli organismi internazionali non riescono a risolvere, l'Europa non riesce a risolvere. Allora, tutto quello che noi facciamo siamo, come dire, punte forse avanzate di un qualche cosa che cerca di andare in una direzione diversa da quella che ci indicano i governi, le amministrazioni, che vuol dire anche i bandi. Stamattina Sandro ha detto, no, è sbagliato a fare un bando e poi pensare che noi possiamo fare le cose all'interno dei bandi. Noi dobbiamo pensare a delle cose che noi dobbiamo e vogliamo fare e poi aspettare che ci sia qualche possibilità di chiedere soldi, ma su quella questione, non perché il bando determina le possibilità. Allora, la prima cosa è che stamattina sono state fatte molte più domande di quanto non ci siano risposte. Questa è una cosa di cui dobbiamo essere assolutamente consapevoli. Alcune delle vostre domande sono molto centrate, compresa quella ultima dei morsi. Non a caso fatto, credo, ascoltando l'accento da una persona straniera, non a caso. Ed è il primo punto che per chi ha vissuto, io ho studiato in America, poi ho vissuto in Africa, poi sono arrivato in Italia, il primo punto che uno si chiede di fronte a questa cosa, dice ma ci sono stranieri tra noi? Come mai ci sono così pochi stranieri tra noi? Perché deve essere un problema di noi italiani? Non è un problema di tutti questo. Quindi questa è la prima grande questione che in altre società, comprese l'odiosa società americana del momento, risolvono almeno a livello di discussioni pubbliche. Se si parla di donne, ci debbono essere metà donne che parlano. Se si parla di migranti, ci debbono essere almeno metà migranti che parlano, ascoltono e interagiscono. Questo fatto di parlare tra noi è sbagliato, ma non perché la fondazione non ci ha pensato, ma perché ci troviamo a questo livello di discorso. E non possiamo scordarci che siamo in questo, riflettendo un ritardo culturale abbastanza forte. La seconda cosa che vorrei dire è che inevitabilmente questo ci mette proprio in quel paradigma odioso del cacciatore del leone. Che è un paradigma odioso e anche, se volete, un po' inadatto a esprimere veramente che cosa sta succedendo. O quantomeno è la classica trappola in cui non dobbiamo cadere. Allora, intanto la storia del cacciatore, la storia del leone, è qualche cosa che dice Cino Acebe, grandissimo scrittore nigeriano, al momento delle indipendenze dell'Africa. E riguarda la scrittura della storia dell'Africa negli anni 50-60. E diceva, fino ad ora noi abbiamo avuto la storia dell'Africa scritta e fatta dagli europei, e insegnata in Africa attraverso le università europee in Africa, dall'indipendenza in poi bisogna che l'Africa costruisca la sua storia, costruisca la sua interpretazione del passato africano. Allora, io avevo 19 anni quando nel 1960 i 17 stati africani acquistano nello stesso giorno l'indipendenza. E naturalmente io ho vissuto tutta la parabola di chi, avendo 19 anni, si affeziona a questo sogno, diciamo, delle indipendenze africane e della fine del colonialismo. E quindi quando ho potuto sono andato a studiare, in Italia non c'era possibilità di studiare storia africana. Negli anni 60 sono andato in America con una borsa di studio e ho studiato, ho fatto un dottorato di ricerca sulla storia dell'Africa. E sono arrivato in Etiopia alla fine degli anni 60 con un registratore sotto un braccio e la tradizione orale di Ian Vanzina, non so se qualcuno di voi conosce quest'opera, o l'altro, sicuramente gli studenti, diciamo, della scuola di Bologna, diciamo. Perché Etiopia? Difficile da spiegare. Sicuramente non perché era stato un paese di occupazione italiana, anzi. Quindi io, che mi volevo interessare di storia orale, ho scelto l'Etiopia perché era un paese di ricca tradizione scritta. L'Etiopia ha la scrittura in caratteri gays, come si chiamano, cioè con una scrittura simile più o meno all'arabo, fin dal quarto secolo dopo Cristo. È uno dei pochi stati africani che ha una sua letteratura scritta. E questo vuol dire che io volevo fare tradizioni orali in un contesto in cui avevo comunque una società che aveva una documentazione non solo orale ma scritta. paradossalmente l'Etiopia poi era un paese tremendo dal punto di vista della storia orale perché aveva la più grande, diciamo, diffidenza della storia orale. I miei colleghi dell'Università di Addis Abeba mi prendevano in giro quando dicevo ma la storia orale va bene se tu vai nel Gano, se vai in un posto dove non c'è una lingua scritta. Ma in Etiopia noi abbiamo la lingua scritta e quindi non hai bisogno di storia orale. Naturalmente non era vero. La storia che è stata scritta del paese è stata scritta tutta su documentazione d'archivio nelle varie lingue etiopiche scritte ma tutta una storia dal punto di vista centrale, una storia centralista dello Stato etiopico. Allora io sono andato nelle nuove zone occupate dallo Stato etiopico alla fine del XIX secolo per vedere in quelle zone di cultura orale qual era il punto di vista rispetto alla storia ufficiale del paese. Convinto di una cosa che quello che succede in periferia serve a spiegare il sistema Stato più di quello che succede al centro. Questa è una lezione che tutti noi abbiamo imparato da lavorare ai margini dello Stato. Allora il cacciatore e il leone è un problema vero ma si può risolvere soltanto in un modo che è quello che ho seguito in parte io e che ha seguito tutta una categoria di studiosi come Bourdieu e Abdelmalek Sayyad. Mi fermo un attimo su questa cosa perché secondo me è una questione abbastanza importante. Bourdieu parla di persone di contatto che bisogna avere quando uno si trova a lavorare in contesti di profonda differenza tra noi e loro. Io credo che noi dobbiamo uscire da questa logica del noi e del loro ma al momento continuo un po' ad averla. Quando c'è una distanza così forte tu hai bisogno comunque di persone di contatto che possono assicurare una maggiore, lui usa due parole, familiarità e prossimità con le loro vie e con le cose che tu vuoi ascoltare. E si parte dal principio che non soltanto parlando la loro lingua ma anche avendo vissuto la stessa esperienza delle persone di cui si vuole ricostruire la storia è un canale molto più efficace che non quello di uno studioso che anche impara una lingua straniera e balbetta le sue domande nella lingua perché anche se sei capace di dire delle cose non le dici dal punto di vista perché non hai quella esperienza vissuta e non avere l'esperienza vissuta di chi delle persone le cui storie noi vogliamo cercare di riscoprire di raccogliere è l'elemento che stamattina abbiamo parlato della guerra la migrazione è un'altra cosa simile alla guerra c'è Fenoglio che dice le due grandi esperienze di vita dell'individuo le esperienze gravi e dure sono l'emigrazione e la guerra l'emigrazione e la guerra e su queste due grandi esperienze l'immigrazione e la guerra aver fatto parte di quell'esperienza come dire è uno dei modi per raggiungere una maggiore prossimità tra chi fa domando chi raccoglie e chi parla tutto questo per dire che la prima cosa che mi viene in mente rispetto ai discorsi che abbiamo fatto da ieri a oggi con Luigi e con Fausto sì, e con Fausto con Luigi e con Fausto rispetto a un possibile archivio di memorie migranti a non Antola è che questa cosa deve deve coinvolgere i migranti oppure sarà un'altra delle molte raccolte di storie che vengono fatte sulle loro spalle sulla loro pelle come coinvolgere i migranti in questo lavoro possiamo vedere anche sulla base delle vostre esperienze però alcune delle cose che sono state dette stamattina sono molto importanti prima di tutto l'idea che uno accende il registratore e non lo spenge il primo insegnamento ci ha detto ieri o era stamattina? no, ci ha detto stamattina no, non l'ha detto stamattina ma ce l'ha detto ieri Sandro Portelli è che Gianni Bosio la prima cosa che gli disse non spengere mai il registratore non spengere mai il registratore e non chiedere mai direttamente come dire raccontami la tua storia non lo fare perché le storie di chi arriva a noi da noi nel modo che sappiamo passando attraverso veramente l'inferno di viaggio di imprigionamento di lavoro schiavo di violenza di ogni tipo e arriva fino a noi molto probabilmente a serie difficoltà a parlare di quello allora la prossimità che uno deve cercare di colmare o raggiungere è di affidarsi o curare la preparazione il coinvolgimento la partecipazione di un gruppo di migranti che si fanno carico di questa cosa e che noi facciamo insieme con loro allora prima Luigi mi diceva noi abbiamo due gruppi di lavoratori pakistani non tanto lontani da non antola l'idea è di andare da loro vedere se c'è qualcuno di loro che può essere coinvolto qualcuno di loro mi sembra che sia sindacalista o qualcosa del genere non so se il sindacalista è come dire la persona ideale per fare questo ma comunque parlando con loro stabilendo dei rapporti con loro trovare qualcuno che sta lì che lavora come loro e che nella sua lingua fa domande a loro sul lavoro che stanno facendo su quello che stanno facendo su come su come sono arrivati a fare quel lavoro su come sono arrivati qui nella zona vicina a non antola su come non direttamente su raccontami la storia diciamo a me interessa il viaggio migratorio raccontami la storia del viaggio perché non funziona semplicemente non funziona ma il viaggio verrà sicuramente raccontato se c'è una relazione che si stabilisce come dire di osmosi stamattina è stato si è parlato spesso anche di empatia e di distanziamento un grande tema su cui possiamo stare delle ore a discutere occorre occorre purtroppo tutti e due occorre purtroppo tutti e due però direi prima l'empatia e l'empatia insomma se io quando ho cominciato a fare questo lavoro mi sono andato a leggere allora non era tradotto La misère du monde di come è il primo nome François di Pierre Bourdieu che poi si è tradotto credo nel 2015 da Mimesis io credo che se qualcuno di voi è interessato all'intervista se si va a leggere l'ultimo capitolo della miseria del mondo che si chiama Comprendere è scritto proprio com trattino prendre prendere con prendere insieme ci sono non so dieci quindici pagine straordinarie su quello che è stata l'esperienza di lavorare Bourdieu negli anni cinquanta mentre era soldato nell'Algeria occupata dalla Francia e nell'Algeria in guerra con la Francia che ha guidato un'equipe di ricerca per capire perché gli Algerini ce l'avevano tanto con i francesi e si è reso conto che non poteva lui essere la persona che faceva le domande direttamente che occorreva a qualcuno che le facesse in arabo e che la facesse parlando dal punto di vista di chi aveva vissuto quell'esperienza e Bourdieu dice una cosa straordinaria registravo il disastro ed è quello che noi abbiamo cominciato a fare da subito ad Asinitas noi abbiamo cominciato il lavoro 2004-2005 a Via Ostiense a Roma all'interno di una scuola di italiano quindi anche cose vicino a noi diciamo come succede qui sapendo benissimo che intorno a noi c'era un disastro un disastro delle prime leggi diciamo sull'emigrazione la clandestinità poi i decreti sicurezza e le cose sono cambiate ultimamente con i decreti Salvini ma guardate che per un migrante la situazione loro l'hanno percepita da subito e ce la raccontavano allora il terrore del migrante alla fine degli anni 90 era il controllore del biglietto sull'autobus o sul treno perché nessuno di loro aveva soldi per pagare il biglietto e quindi l'insidia maggiore e l'umiliazione maggiore noi dobbiamo mettere in conto l'umiliazione come dato di fondo di fondo della reazione di molti di queste persone che vivono questa esistenza avvelenata tra di noi era di essere apostrofato come una persona che aveva voluto fregare che non aveva pagato il biglietto perché cercava di fare il furbo mentre invece queste persone che arrivavano da centri di accoglienza sbattuti nella mia esperienza fuori Roma a distanza di tre quarti d'ora da Roma dovevano prendere due o tre autobus autobus che non si fermavano alla fermata se vedevano un gruppo di neri autobus che se arrivava un controllore andava immediatamente da loro sapendo che lì c'era la ciccia lì c'era qualcuno che dovevano pagare e l'umiliazione di doversi giustificare o l'umiliazione di dover spiegare la situazione era era uso la parola la colonia la colonia il ricordo della colonia la colonia è il titolo di un di un di uno straordinario quadro fatto congolese di un di un africano che viene fustigato è un africano è un soldato africano che viene fustigato a culo nudo da un altro africano e la colonia è questa l'umiliazione ricordo per chi forse non sa queste cose che le punizioni corporali erano proibite quasi ovunque negli eserciti europei ma non negli eserciti coloniali e una della maggiore umiliazione era per un soldato delle truppe coloniali era quello di essere punito in pubblico con il sedere nudo con il sedere nudo davanti a tutti i propri compagni questa è la colonia questo è il biglietto che non paga il migrante che viene colto in fallo allora è chiaro che rispetto a questo io sono il cacciatore lui è il leone e in questa situazione noi dobbiamo reagire dicendo noi abbiamo bisogno di loro anche per la raccolta di storie dice ma c'è un eccesso di empatia sì forse c'è un eccesso di empatia ma intanto registriamo queste storie facendo parlare loro la loro lingua nella loro come dire condivisione di una stessa esperienza mi dispiace quando uno parla a braccio poi si scorda di tutte le cose che che doveva dire insisto ancora brevemente su questo su questo tema non c'è in Italia una figura professionalmente guidata dell'interprete tutti gli interpreti nelle commissioni in questura dovunque andate sono dei migranti cioè il migrante e qui io naturalmente mi rifaccio sempre l'esperienza coloniale il migrante è come l'interprete coloniale una persona che deve dire nella lingua del colonialista o nella lingua dello Stato che nega lui i diritti deve spiegare le regole a un'altra persona che queste regole non capisce è lui che ha vissuto questa esperienza e che ha su tutti i suoi traumi fisici di ogni tipo anche il fatto che lui campa prendendosi questi 40 dollari euro o quello che è perché fa l'interprete in commissione e vi potete solo immaginare che quale strazio può essere di dover tradurre le parole o i balbettamenti di qualcuno che lui vede sicuramente cadere in una serie di trappole che inevitabilmente lo porterà non diniego tanto più che i dinieghi stanno aumentando vertiginosamente e dover continuare a tradurre le parole del nemico se volete allora il non riflettere su queste questioni è la stessa cosa di non voler riflettere sul passato coloniale dell'Italia perché questo è di nuovo aver assorbito la colonia nei propri meccanismi avere la colonia addosso essere ancora un paese coloniale noi dal 1947 cioè da quando il trattato di pace ci ha tolto le colonie con una rinuncia perché il trattato dice l'Italia rinuncia ai suoi possedimenti coloniali abbiamo scavalcato al momento della decolonizzazione siamo arrivati alla decolonizzazione dicendo ma noi non abbiamo i problemi che hanno la Francia il Belgio l'Inghilterra non abbiamo avuto i Mau Mau non abbiamo avuto l'indipendenza dell'Algeria non abbiamo avuto il problema che hanno avuto i congolesi eccetera perché noi siamo stati dal 1947 non abbiamo più e quindi è passato questa linea diciamo terzomondista di di volemose bene di di ma l'Italia e gli italiani brava gente questa cosa degli italiani brava gente è mortale guardate è mortale perché è uno di quei di quei ossimori che non si riesce non si riesce a far cadere e gli italiani brava gente anche perché noi siamo formalmente un paese di accoglienza ma sappiamo benissimo che formalmente siamo un paese di mancata accoglienza di mancata accoglienza perché da sempre noi non abbiamo voluto questa gente tra noi ieri su questo nuovo giornale che si chiama domani già bascego ha scritto un articolo molto bello in cui vediamo se riesco a trovare la frase si parla di come l'Italia è riuscita ad essere bianca che a un certo punto dice l'Italia non ha mai voluto essere un ponte tra Europa e Africa e ha vissuto più di 150 anni con la sindrome di dover dimostrare all'Europa di essere europea immacolata pura bianchissima nessuno meglio di Mussolini sapeva quanto era l'Italia invece vicina ai popoli mediterranei tanto da prenderne distanza con le famigerate leggi razziali che sono state ricordate due anni fa con non grande incisiva diciamo presenza dei giornali eccetera tranne la nomina della senatrice Segre in quel momento ecco allora queste sono le persone di contatto di cui parla Bourdieu anche lui lavorava in un clima sia ad Algeri sia nella misera del mondo quando lavora nella banlieue quando nei primi anni 90 lavora nelle periferie degradate dei di Parigi dove arrivavano i contadini inurbati e gli algerini e se leggetevi se avete l'occasione vi capita in una biblioteca è un librone abbastanza grosso forse anche per certi versi indigesti ma spettacolare di storia orale leggetevi le prime due i primi due racconti di famiglia sono due racconti di due famiglie una francese e una algerina tutte e due come si dice a Napoli con le pezze al culo cioè poveri che si odiano e si odiano perché stanno sullo stesso pianerottolo e si odiano perché sono entrambi come dire parte di questa di questo mondo che la Francia ufficiale sbatteva in periferia e da dove sono venute e continuano a venire movimenti di opposizione ribellione eccetera allora per dire che queste persone di contatto che erano gli interpreti che erano però dei professionisti cioè Sayad che era il maggiore collaboratore di Bourdieu sia in Algeria ad Algeria e poi dopo a Parigi era un sociologo tra l'altro ha scritto un bellissimo libro che invito tutti voi a leggere che si chiama La Doppia Senza e Sayad dice un'altra cosa che per noi è importantissima noi nella nostra accoglienza e anche nella nostra raccolta di storie abbiamo enfatizzato un pezzo dell'evento migratorio un pezzo che è la fine tra virgolette perché non c'è mai fine all'evento migratorio ma la seconda parte dell'evento migratorio cioè l'arrivo e non ci siamo invece abbastanza interrogati sul momento della partenza e il momento della partenza e il momento dell'arrivo non sono scindibili non a caso noi chiamiamo migranti usando un participio presente questa è una cosa che dice Federica Sossi nel suo blog sulle storie migranti dell'università di Bergamo un blog che è utile andare a vedere molto molto interessante in cui riprende tra l'altro un'opera di Foucault la storia delle persone infami cioè persone senza fama che sono la storia dei dei condannati a morte nella 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 Francia di 200 300 anni fa che lui ricostruisce e le storie che noi stiamo raccogliendo oggi sono storie di persone non che non hanno voce perché ce l'ha detto stamattina molto chiaramente Portelli e tutti noi siamo d'accordo su questo ma che non hanno accesso alla voce diciamo loro diretta pubblica in qualche modo e quindi queste persone di contatto questa è stata la nostra esperienza ad Asinites questa è stata la nostra esperienza voi avete avuto una di queste persone di contatto che era Dagmawi la settimana scorsa che vi ha fatto vedere un film naturalmente Dagmawi può darsi pure che sia un'esperienza un po' unica di una persona che ormai sta qui da 14 anni che si è sposato che non ha mai chiesto non so se ve l'ha detto ma che non ha mai chiesto la cittadinanza italiana non è che non gli è stata mai data non l'ha mai chiesta si è sposato una donna italiana ha due figli che sono italiani e poi ha negoziato con il suo governo che considera tutti quelli che vanno via dell'Etiopia come persone che non vogliono avere a che fare con il suo governo per poter ritornare in Etiopia e portare la sua famiglia da farla conoscere all'unica persona che è rimasta della famiglia in Etiopia tutti gli altri sono in America e che è suo padre e allora vi vorrei raccontare perché conoscete la persona vi ricordarete i suoi tratti la sua dignità se una persona vede Doug questo suo modo fiero di parlare in modo dignitoso di sé del suo progetto del suo futuro e quando Doug è arrivato ed è arrivata ad Asinitas nel 2006 preceduto da un suo compagno con cui lui aveva fatto il viaggio che si chiamava Sinti fu subito coinvolto nella diciamo nell'insegnamento e nella gestione della scuola a vari livelli nel 2008 chiedemmo a Andrea Segre di venire a farci un seminario sul sul video partecipato e insieme con lui e con Marco Carsetti che qualcuno di voi forse conosce qui decidemmo invece di non di fare un seminario sul video partecipato ma di fare un video di fare un video e di farlo attraverso questa persona di contatto cioè di farlo con Doug Maui che faceva le domande le faceva in lingua amarica ed è il successo di quello che è stato forse la prima icona di video partecipato a diffondersi almeno a livello così di circolazione tra associazioni in modo massiccio come un uomo sulla terra del 2008 è un film doloroso che hanno voluto fare loro cioè i ragazzi etiopici che stavano ad Asinitas per denunciare le condizioni dei loro fratelli che erano ancora imprigionati nelle gabbie nei campi libici lo hanno voluto fare loro e lo hanno fatto loro e io penso che qualcuno di voi avrà visto questo film se no è un film da vedere ancora oggi non è invecchiato e e Doug parla e fa le domande e non le fa certo per un questionario che gli abbiamo dato noi ma le fa lavorando sulla sua esperienza di persona che fa il viaggio che fa il viaggio con un certo numero di persone e che arriva in Italia e vuole riflettere su questa esperienza e quando il film esce e da e circola in Italia a un certo punto io vado per un mio ciclo di ricerche in Etiopia l'anno dopo nel 2009 e Doug mi dà una copia di questo film da portare a suo padre suo padre a cui lui lo dice nelle prime immagini del film lui non ha detto che stava partendo il giorno dopo Doug è il figlio maggiore cioè il pilastro della casa dopo il padre e Doug ha avuto sempre un enorme senso di colpa per questa cosa di cui non ha informato il padre e quando mi dette questo film da portare Addis Abebe e da far vedere la sua famiglia Doug ha avuto una serie di ripensamenti tentennamenti ci telefonavamo continuamente glielo facciamo vedere non glielo facciamo vedere allora io mi sono messo in comunicazione con il fratello di Doug gli ho dato una copia del film e gli ho detto Doug vuole che lo veda il quartiere che si chiamava Kirkos che è un quartiere vicino alla ferrovia di Djibouti Addis Abebe il quartiere è stato invitato nella casa di Doug e Doug si era raccomandato che il film lo vedesse prima il padre e il fratello c'erano due fratelli in quel momento il padre e due fratelli la madre e la sorella erano partiti già da alcuni anni in America un paese dove Doug ha sempre detto che non aveva interesse ad andare perché lui è arrivato in Italia e lui vuole lottare qui quindi questo è il tipo di persona di cui noi abbiamo bisogno per portare avanti questo tipo di discorso io ho dato questa cassetta il fratello l'ha vista il fratellino piccolo che aveva 12 anni non lo ha visto ma soprattutto non lo ha visto il padre è interessante questo il padre non ha voluto vedere quel film il padre aveva paura in qualche modo di vedere quel film e quando c'è stato questa riunione con la famiglia dove c'era la vecchia nonna di Doug e le donne del quartiere alcuni dei figli erano in viaggio e non si sapeva dove erano e c'era una tensione emotiva molto forte all'inizio del film quando il figlio dice cioè Doug dice io non ho detto a mio padre che stavo partendo lo sapeva solo mia madre che stava in America il padre si è alzato e ha lasciato la casa la stanza e lì per lì io ho pensato che c'era questo senso così di 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 rabbia perché il figlio specialmente se è primogenito in molte culture dell'Africa non è così facile andare contro o essere in dissidio rispetto al padre però il padre è ritornato dopo cinque minuti io ho capito benissimo lo dicevo prima a Mimmo è tornato perché si era commossa semplicemente per questo il padre si era commosso perché il padre riconosceva la sua colpa di non aver come dire in qualche modo incoraggiato o di avere una relazione di intimità con suo figlio così forte che permettesse a lui di discutere con lui sull'opportunità o meno di fare il viaggio allora quando uno si trova di fronte a queste cose io penso che noi dobbiamo veramente pensare che saranno pure eccezioni queste ma noi abbiamo di fronte persone che rispetto ai nostri figli e nipoti sono come dire dei giganti di forza di determinazione di voglia di lottare è soltanto che noi non intercettiamo questa voglia non la capiamo e non e non ci riesce di come dire combinare le forze ma io come dire così abbraccio se una cosa ho imparato dall'esperienza prima con Asinitas e poi come responsabile dell'archivio delle memorie migranti è che questa presenza questa partecipazione questo coinvolgimento dei soggetti della narrazione non gli oggetti ma i soggetti della narrazione è assolutamente indispensabile e penso che dovrebbe essere o potrebbe essere una delle possibili tecniche diciamo strategie piccoli passi da fare in questa direzione che il lavoro sia lento lungo e difficile credo che tutti tutti voi che lavorate vicino o siete dentro questo campo lavorate siete vicini a questo campo lo sapete già è molto lento e non è importante il risultato lo dicevamo sempre e continuiamo a dirlo non è importante il prodotto di questa cosa ma è il processo che il processo di coscientizzazione che il processo di fare squadra il processo di stare insieme di vivere insieme questo come dire stare accanto a persone le cui vite sono un inferno è essenziale perché il progetto abbia un esito positivo non è importante il numero di storie raccolte ma è importante che il processo attraverso il quale noi arriviamo alle storie sia un processo condiviso con queste persone e condiviso vuol dire che uno annette alla questione della comunità il lavoro di comunità come una comunità narrativa che può essere e deve essere costruita con fatica con dolore attraverso il contrasto e non si può escludere chi è intorno alla comunità è la descrizione di Calvino nelle città invisibili chi è nell'inferno deve dare spazio a tutto quello che inferno non è questo è bisogna dare spazio intorno a loro creando condivisione coinvolgimento e possibilmente collaborazione ma anche il confronto con opinioni diverse anche marcatamente diverse fa parte della storia che noi dobbiamo raccogliere perché la storia di una comunità è una storia che non può eliminare i contrasti o i conflitti e i contrasti e i conflitti pensando ora a Nonantola e pensando ieri sera sono stato informato perché io non conoscevo questa cosa che alcuni elementi della popolazione migrante di Nonantola vede alla storia e al passato di Nonantola con un certo sospetto in quanto musulmani Nonantola come luogo di accoglienza deve tornare ad essere Nonantola come luogo di accoglienza perché va spogliato della sua come dire del momento storico che è stato vissuto in quel momento attraverso quello che era l'unico modo possibile per venire incontro a dei bambini e dei ragazzi che venivano a Nonantola come internati e il cui unico orizzonte possibile era quello del nuovo Stato di Israele riconoscere a Nonantola oggi un riconoscere Nonantola come un luogo di memoria non vuol dire enfatizzare quello stesso tipo di strada ma enfatizzare il fatto che allora malgrado tutto quello Nonantola ha saputo dare dimostrazione di accoglienza che andavano contro le leggi e le norme del momento che andavano contro il fatto che non tutti erano soltanto gli ebrei che accoglievano o aiutavano i ragazzi di Nonantola e questa stessa cosa va ripetuta oggi nella Nonantola di oggi a mio avviso e tutti i discorsi che abbiamo fatto su trascrizione o meno registrazione mantenere gli audio oppure non è una discussione che dobbiamo fare e che non è eliminabile ma il punto è cominciare con diciamo con il piede giusto nella direzione giusta se noi pensiamo di addestrare un gruppo di cacciatori tra virgolette o cercatori per dirla alla Bart perché abbiano il compito sacro di raccogliere nella maggiore empatia possibile storie di chi arriva in Italia credo che faremo un nuovo buco nell'acqua noi dobbiamo creare un gruppo misto di italiani e di non italiani di Nonantolani e di Nonantolani che ha il principio per dire raccontare e raccontarsi è un pilastro di ogni comunità il rispetto dell'opinione altruo della dignità e dei principi e delle credenze degli altri è essenziale noi raccogliamo le storie raccogliamo le storie mettendo dei paletti che possiamo mettere rispetto alla possibilità di 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 quante persone e quali gruppi includere ma io non ho dubbi che questo debba essere un gruppo di persone di contatto nella figura di migranti i quali come è stato con Dag ma come è stato con Sinti come è stato con Zaccaria e con molti altri di loro si impegnano altrettanto quanto noi nel in questo in questa idea che si lotta non soltanto perché il parlare viene difficile quando uno viene da esperienze di questo tipo no Benjamin i soldati che rientrano dal fronte della prima guerra mondiale tornano ammutoliti questa è l'esperienza della migrazione le persone che tornano dopo essere stati per anni o lunghi mesi aver attraversato quell'inferno atroce che è tutto il sistema di cui possiamo parlare in un altro momento se volete eccetera e che arriva da noi sono persone traumatizzate e quindi non è così facile che loro parlino esattamente di queste cose che noi vogliamo che loro di cui che noi vogliamo vabbè avete capito come diceva no stamattina Sandro diceva tutte le immagini oppure cosa ti aspetti mai fare domande dirette alla scoop come viene sempre in televisione no ah lei è stata violentata che cosa ha provato queste sono le pazzie le pazzie italiane perdona non perdona no questa è la classica domanda risposta botta risposta della follia della comunicazione italiana una storia che coinvolga la persona fin da quando era bambino fin da quando le storie che si raccontavano a casa perché questa è stata l'esperienza di Asinitas in fondo fin da che tipo di favole ricorda i rapporti con la madre col padre le vicissitudini della famiglia se ha studiato o se non ha studiato molte persone che vengono qui da noi hanno studiato a volte hanno dei dei bei titoli di studio che come voi sapete non vengono facilmente riconosciuti dal sistema italiano non esiste l'equipollenza con i paesi africani esiste l'equipollenza con i paesi europei altra follia perché bisogna trovare una risposta anche a questo e allora questa questa cosa qui va in qualche modo risolta nel modo che assicuri un maggiore coinvolgimento di queste persone gli altri cioè non bisogna usare il termine dare voce e anche bisogna anche io penso rivedere criticamente alcuni dei modi in cui noi usiamo le parole la stessa parola subalterni per esempio a me non piace molto noi dobbiamo creare uno spazio che permetta alla loro voce di essere ascoltata di articolarsi e di essere ascoltata perché nel dare voce ancora una volta siamo noi diciamo che diamo voce a loro mentre invece credo che loro la voce non tanto per raccontare le loro storie ma ce l'hanno nel loro quotidiano sforzo di vivere nei campi di lavoro nella partecipazione alle lotte di lavoro nei modi di cui alcuni mi hai detto pure loro nei modi che hanno loro di fare accoglienza cioè i migranti fanno accoglienza in modo incredibile tra di loro come dire si ospitano si partecipano ma naturalmente non tutti forse ma noi dobbiamo cogliere questi momenti per dire noi dobbiamo stare a fianco a loro e creare uno spazio perché la voce diciamo politica possa venire fuori nel momento in cui deve venire fuori l'esperienza per noi come AMM è stata anche la partecipazione a questo progetto che si chiama DIMMI che non so se qualcuno di voi conosce che è diari multimediali migranti che abbiamo fatto insieme a molte altre associazioni con l'archivio di diari di Pieve Santo Stefano dal 2015 a Pieve Santo Stefano che sapete è la roccaforte dei diari italiani ci sono circa 9.000 raccolti negli ultimi 34 anni su iniziativa di Saverio Tutino nei primi anni 80 da 5-6 anni ogni anno si raccolgono le storie i racconti di migranti di persone migranti meglio sempre uscire da questa cosa dei migranti un'altra parola che noi dobbiamo usare il meno possibile in qualche modo sono persone migranti i migranti i diari di queste persone migranti sono stati raccolti sono circa 400 sono tutti nell'archivio di Pieve Santo Stefano ogni anno c'è un concorso e questa è un'altra cosa che da favorire e dire oltre all'intervista che possiamo avere noi ma incoraggiare loro a scrivere anche nella loro lingua d'origine perché a Pieve Santo Stefano dopo una lunga lotta siamo riusciti a dire noi archiviamo anche in una lingua non italiana e anche non europea perché noi oggi possiamo non avere difficoltà di traduzione eccetera ma questa cosa sarà utile tra 50-60 anni quando speriamo questa cosa sarà diversa e quando la seconda generazione di chi è immigrato in Italia oggi o ieri sarà contenta di andare a vedere come il nonno aveva scritto questa sua storia partecipando volontariamente a un concorso pubblico ogni anno arrivano 60-70 di queste storie e queste storie hanno permesso di unire i due poli della migrazione in Italia che sono due poli a volte accesamente uno contro l'altro cioè i vecchi migranti quello che i somali chiamano le vecchie lire con i nuovi migranti quello che i somali chiamano i titani le vecchie lire hanno sempre combattuto i titani perché dicevano questi sono ragazzi non sono come noi ci fanno fare brutta figura non si lavano fanno accattonaggio sono spesso coinvolti in nazioni lavorano con stipendi diversi da quelli nostri è nota la resistenza dei vecchi migranti rispetto a quelli nuovi noi con il progetto Dimmi e attraverso le scritture e un incontro che ogni anno viene fatto a Pieve Santo Stefano che riunisce i vecchi e i nuovi siamo riusciti a creare dei gruppi che conisce i vecchi migranti con i nuovi migranti e che stanno prendendo la parola pubblicamente hanno denunciato con una petizione su Change i decreti Salvini hanno mandato lettere a Bruxelles eccetera cioè quando c'è lo spazio secondo me arriva anche la maggiore partecipazione politica il problema è che fino a questo momento non ci hanno dato molta fede rispetto a questo e noi sappiamo bene chiunque ha vissuto accanto ai problemi delle persone migranti nel quotidiano sa bene il senso di a volte di rinuncia e di quasi disperazione che ha accolto tutti noi quando non eravamo in grado di rispondere alle loro richieste e quindi perché dovevano avere questa fiducia che lavorando insieme con noi politicamente agendo insieme con noi saremmo potuti saremmo riusciti ad avere qualche risultato invece l'esperienza per esempio dei diari che sono multimediali che quindi noi accettiamo sotto forma di video di fotografia di scrittura eccetera intercettiamo qualcuno di questi ma diciamo tu hai scritto qualche cosa hai delle cose che vorresti comunicarle a un pubblico del luogo dove tu sei la nostra esperienza che dopo un po' questa cosa funziona funziona e permette di vedere e di intravedere anche che loro non sono soli questa è la cosa di fondo molto spesso loro gettano la spugna perché si sentono soli nel nostro paese allora organizzare una serie di qualunque e comunque di cose con loro non per loro ma con loro permette forse questa prossimità di cui parlava Bourdieu e che è necessaria a mio avviso per procedere a un lavoro più sistematico di raccolta che contempli anche la raccolta di vite all'interno del quale ci può essere anche l'evento migratorio ma se noi invece focalizziamo tutto sull'evento migratorio e gli diciamo raccontami la tua storia dell'evento migratorio probabilmente ci mandano a quel paese questa è la mia valutazione la mia valutazione è